un contenitore contenitore di biorischio in pausa hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore non sapevo, cazzo che ne è qua? aspetta qua, l'ho vista, aspetta, aspetta al posto bella 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 buona bella 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 come cazzo ha fatto a non morire? come cazzo ha fatto a non morire? bella bella però c'è uno per il e lo so che arriva da dietro prova, prova ma per il micro non c'è più bella bella la bella ne faccio e faccio faccio Non l'ho registrata, eccola Ho vinto io Il maestro ha 1 HP Il ha 1 HP Il ha 1 HP Il ha 1 HP Via, via, via Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Si Ricca il terrat e lascio verso di... Brava 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 Sono tutte due lì Lascialo Sì Lascialo C'è una granata, si motone Vabbè Lei che vede ammazzata Lasciamelo la Lasciamelo la Aspetta, gioca, ci gioca Lascialo a me però Raga, non ci schiacciate Guarda, non ci schiacciate Guarda, non ci schiacciate Guarda 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 G4, brutto Guarda 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 bella ptai grazie